Prometto di mio l'impegno e velocità nell'esaminare la fattibilità di un'approvazione di una legge che loro stessi meritoriamente hanno steso in mancanza di risposte da due anni, perché lamentano un'assoluta mancanza di risposte politiche concrete ed economiche da due anni a questa parte. Mi hanno consegnato il progetto di legge che hanno elaborato e sono anche orgoglioso ed emozionato ad essere il primo esponente di governo a cui è stata affidata questa responsabilità. Prometto una risposta in tempi certi, non fatemi parlare di numeri, di cifre, però sono persone che hanno vissuto un dramma indicibile, il processo giudiziario avrà i suoi tempi, ovviamente chi ha sbagliato pagherà, entro una settimana mi sono fatto carico di dare una risposta legale che rappresenta le famiglie che oggi ho incontrato.